eccoci ben ritrovati in una puntata ignorant fishing ragazzi ci siamo dove siamo dove siamo fa vedere dove siamo niente adesso ragazzi abbiamo un problemino perché la strada si fa sempre più più difficile oggi giornate di esplorazione massaciuccoli massaciuccoli pressi di massaciuccoli lago canale non lo sappiamo benissimo cosa esploreremo un po tutto esplorando il corpo umano esplorazione ragazzi la situazione è questa guarda dentro un po se non ti fermi la situazione è questa ma vai tranquillo che su google maps i posti li trovi e sono dai puliti merda gustatevela perché perché non ne vedrete altre scherzo da parte ragazzi gustatevela prima che ci mangino le piante gustatela ragazzi perché non lo so io vincenzo cosa dici io sento puzza di di magia magia di big di big big one ragazzi buona visione ciao 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 grande bravo c'è la bocca così piccola che non riesco neanche a tenerlo non mi ha dato neanche l'emozione del combattimento perché mi ha mangiato qua sotto e quando ho visto la pancia come se fosse una trota black arrow rosso fatale piccolo ma bello c'è ragazzi guardate che che bei baschi stanno uscendo bellissimo belli 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 mamma mia vai greg release commento affetto ci mancava ma so cioccoli ci mancava mamma mia ragazzi ci siamo ci siamo guardate che belli guardate che belli che belli buoni bellissimo io faccio così sempre ad aprire le banane basta che le apro io no aperto mi ha aperto al contrario allora ragazzi ci siamo fermati un secondo per mangiarsi due banane siamo partiti con le speranze diciamo le aspettative molto basse siamo partiti con le aspettative molto basse perché non conoscevamo il posto non conoscevamo l'acqua e di conseguenza era tutta un'incognita però adesso sta andando bene vincenzo ha deciso di andare di rana io lo proverò ancora con il gambero che si sta rivelando fatale parlo piano perché il basso è un pesce che porca puttana se ci sente già non mangia mai bellissima questo è veramente emozionante rega è un'emozionante rega Bang! Grande! Piccolo? Ma buono, ma buono! Se dovessi scegliere un suono per questa cattura, patapim! Patapim! Ma ce l'ho! Ma è incredibile! Era così piccolo che non lo sentivo! Un pesce gatto! Pesce gatto col gambero! No, assurdo! Ma ha mangiato così, in modo così strano! Che bello! Bellino, eh? Bellissimo! Calmo, calmo, fermo! Guardino, dammi! Madonna! È mostruoso! Occhio al filo! Non ti vedo! Aspetta, è più in là! Vai, vai, vai! Vai, gra! C'è! Oh mio Dio! Madonna ragazzi! Abbiamo preso una bestia! È uscito! Guarda che roba! Che vitello! È assurdo! Ma ragazzi, prendilo! Ah, alzalo! Madonna! Porca troia! C'è questa qua è la faccia! Questa qua è la faccia, ragazzi! Tieni l'ho deciso, eh! Si, si, si! Madonna ragazzi! Che bello! Fammi una foto, fammi una foto! È gigantesco! Queste sono le mie quattro dita! Release! Release ragazzi, vieni! Mamma mia, va che roba! Ora lo lasciamo, siete pronti! Oh, ma morsicato! Madonna, madonna! Accostalo! Gigantesco! 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 Bang! Bang! Mamma mia! Grande Vincenzo! Mamma mia! Ragazzi, assurdo! Ero veramente scannatissimo! Non avevo preso uno grosso così, tipo... Cioè, guarda, figa! Allora, io non so se si vede, ragazzi! Non so se può rendere! Porca troia! Ero scannatissimo! È partita una carpa sotto riva! Ma non era una carpa! Non era una carpa! E questo perché? Eh... Bang! Le emozioni! Le emozioni! E avanti così, raga! Non mancano mai! Giornata, ragazzi! Giunta al termine! Anche se siamo andati da riva ci siamo divertiti! Cosa abbiamo fatto, ragazzi? Praticamente siamo tornati a Massacciuccoli! La particolarità di Massacciuccoli, per chi non lo sapesse, è che da riva è veramente difficile! O conosci gli spot, cosa che abbiamo fatto oggi cercando di guardarne qualcuno con scarsi risultati! Esatto! Oppure un'imbarcazione! Noi abbiamo il gommone, ma di spaccarsi la schiena... Oggi non abbiamo voglia, diciamo! L'abbiamo portato, eccolo! E' lì! Parliamo un secondo di Massacciuccoli! Piccolissima parentesi! Noi che siamo degli esperti! Esatto! Perché è difficile i Massacciuccoli da riva? Perché la riva non c'è, ragazzi! Sono tutti canneti, quindi di conseguenza i canali pescabili da riva sono pochi! O almeno quelli che conosciamo noi sono pochi! Esatto! E alcuni comunque, se presentano degli erbai o magari dell'erba alta lungo la costa, comunque risulta difficile! Ma ci sono diversi canali corsi d'acqua che sono pescabili! Noi oggi abbiamo andato a vedere alcuni spot che già conoscevamo per controllare i livelli dell'acqua! E ne abbiamo explorato altri nuovi che sono quelli dove alla fine sono usciti i pezzi! Esatto! Quindi di conseguenza abbiamo scoperto che, insomma... Blink fling, rumore dei soldi! Sbang, sbang! Dicevamo, abbiamo scoperto che quando pesciti per qualcosa in realtà non sai un cazzo! Vero! Alla prossima puntata! Ah no, 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 un attimo! Seguiteci su tutti i social, eh! Tutti! Cercateci ovunque! Esatto! In Instagram posteremo delle foto potentissime! Inizia a piovere! Alla prossima puntata! Ignoranzisci! Alla prossima! Andren? Inizia a piovere qui no! Inizia a toverständ